La vitamina B12 è coinvolta in numerosi processi biochimici. Contribuisce per esempio alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento, al normale funzionamento del sistema nervoso e del sistema immunitario, oltre anche a contribuire alla normale formazione dei globuli rossi e al metabolismo dell'omocisteina. Le vitamine sono nutrienti essenziali la cui assunzione è indispensabile per il nostro organismo. La maggior parte di esse, infatti, non può essere sintetizzata dall'organismo stesso e devono essere perciò assunte regolarmente con la dieta. In particolare, la vitamina B12, anche nota come cobalamina, è sintetizzata solo ad opera di alcuni batteri e viene introdotta nel nostro organismo attraverso il consumo di alimenti di origine animale. Nell'intestino umano esistono alcuni batteri che sintetizzano la cobalamina, ma questi si trovano purtroppo in zone dove il fattore intrinseco, che è il carrier indispensabile per il suo assorbimento, non arriva, per cui l'assorbimento attraverso questo canale è purtroppo irrisorio. Chi necessita allora di un'integrazione di vitamina B12? Come già detto, la fonte alimentare principale è quella animale. In particolare si trova nel fegato, nei molluschi e in alcuni tipi di pesce. Quindi, gli stati di carenza si possono avere più facilmente in chi segue diete vegane o vegetariane molto rigide. Anche tra gli onnivori però si possono registrare carenze di questa vitamina, poiché possono verificarsi perdite fino al 50% a causa della cottura o della pastorizzazione dei cibi. Un'attenzione particolare deve essere posta dai soggetti over 50, perché con gli anni si sviluppa una certa difficoltà ad assorbire le vitamine. Oppure da chi soffre di difficoltà a livello di assorbimento gastrico o intestinale, come per esempio nei casi in cui è presente celiachia, colite, gastrite, morbo di Crohn. Oppure da chi utilizza in modo continuativo alcuni farmaci che possono modificare pH e assorbimento di nutrienti a livello gastrointestinale, come per esempio gli antiacidi o i gastroprotettori. L'integratore di vitamina B12 che abbiamo scelto di presentarvi è quello della linea Principium di Biosline. È altamente biodisponibile perché è formulato in mini compresse orosolubili che si assorbono direttamente per via sublinguale. È ideale anche per vegetariani e vegani perché l'estrazione è ottenuta da una naturale fermentazione batterica. Inoltre è privo di glutine e lattosio, quindi ideale proprio per tutti. Vieni a scoprire tutta la linea Principium. Ti aspettiamo in negozio, ci trovi a Bernareggio, in via Bonarotti 15. A presto, ciao!